gentili telespettatori buona giornata ieri sera ho visto piazza pulita sulla 7 con formigli stavo girando canale guardavo su rete 4 c'era programma che non mi interessava allora ho guardato poi forse non era ancora cominciato porro non so se c'era porro ieri sera vabbè mi fermo su questo programma su piazza pulita perché dicono che hanno uno scoop incredibile clamoroso su fratelli d'italia fatto da fanpage fanpage lì c'è il direttore dopo un po fanno vedere questo servizio e realmente hanno praticamente per tre anni si sono infiltrati dentro fratelli d'italia spacciandosi per un un imprenditore che voleva finanziare la campagna elettorale le comunali a milano di fratelli d'italia e ne è venuto fuori un quadro decisamente incredibile si è parlato di finanziamenti possibili finanziamenti regolari of finanziamenti in nero li chiamano black in nero al partito gli spiegavano a questo finto imprenditore che era un giornalista di fanpage gli spiegavano come pagare come pagare in in nero e poi si è visto di tutto e di più attenzione di tutto e di più atteggiamenti frasi di nostalgici ma delle cose veramente sono rimasto abbastanza così e in mezzo a queste persone a parte c'era una una candidata per per il consiglio comunale come poi c'era 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 un euro deputato capogruppo all'europarlamento per fratelli d'italia ha fatto ho ascoltato e ha fatto delle cose che credo incredibili e poi sono andati mentre era in diretta c'era un giornalista che ha chiamato questo euro deputato dicendo stava guardando il servizio no e me l'hanno detto adesso che arrivo a casa lo rivedo non so se è disponibile su fanpage qua su youtube non lo so è una prima parte di questo di questo reportage dicono che è durato tre anni hanno detto a giorgia meloni se voleva intervenire intervenire in trasmissione hanno detto a questo euro deputato se voleva intervenire in trasmissione poi è arrivato un comunicato di fratelli d'italia probabilmente fatto dire probabilmente non si sa fatto direttamente da da giorgia meloni però era firmato fratelli d'italia intanto dobbiamo fare una premessa una premessa assolutamente doverosa prima di tutto prima di tutto siamo a qualche giorno oggi giovedì le le elezioni sono domeniche lunedì siamo a due giorni e mezzo dalle elezioni piazza pulita è un programma condotto da un giornalista evidentemente di sinistra abbiamo un fanpage possiamo chiamarlo giornale ma neanche un sito di informazioni tendente a sinistra il suo direttore probabilmente di sinistra se no non avrebbe senso ospiti di sinistra tre giorni dalle elezioni ovviamente hanno scelto proprio l'essere a ridosso delle elezioni perché tutta la puntata era incentrata prima salvini e poi meloni quindi servizi contro salvini e contro ovviamente meloni e fratelli d'italia e la lega questo viene fatto chiaramente a ridosso delle elezioni per screditare i partiti che attualmente sono dati in vantaggio in italia primo e secondo partito che sia fratelli d'italia o la lega comunque prima e secondo partito vi devo dire che a parte queste premesse che è stato fatto tutto evidentemente tirato fuori tutto qualche giorno prima delle elezioni è ovvio che questo è un tentativo di cercare di condizionare il voto ovviamente questo lo capisce chiunque però rimane comunque una mia una mia esclusiva opinione soltanto una mia opinione dall'altra parte dopo aver detto questo che è fatto per condizionare le elezioni che tutto è tirato fuori a due giorni prima bla 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 dall'altra parte il comunicato di fratelli d'italia che dice chiediamo al direttore di fan page di poterci di inviarci il filmato integrale senza tagli di tutto quello che hanno registrato con questa telecamera nascosta perché vogliamo individuare le responsabilità delle varie persone e agire di conseguenza beh quello che nel comunicato di fratelli d'italia c'è non c'è un la risposta di fratelli d'italia è semplicemente mandateci il filmato che vedremo di risolvere la situazione all'interno di fratelli d'italia non c'è nella risposta una critica mandateci il filmato il direttore di fan page dice che hanno oltre cento ore oltre cento ore di di video perché dice che tre anni che fanno questa cosa qua tre anni è ovviamente non è che l'hanno fatto col pd perché anche il conduttore formigli dice beh se l'aveste fatto con il pd se l'aveste fatto con altri partiti magari il risultato sarebbe stato lo stesso finanziamenti in nero però il fatto qualcuno ha cercato di far passare come personaggi marginali in questi video in realtà c'è l'europarlamentare capogruppo di fratelli d'italia in europa molto vicino a giorgio meloni l'altro giorno ha preso il posto di meloni quando era in ritardo per la presentazione a milano del candidato bernardo la chiusura della campagna elettorale con i leader di centrodestra quindi c'erano persone ovviamente marginali ma c'era l'europarlamentare persona politico di di spicco i video che sono stati mandati in onda anche se tagliati anche se tagliati anche se messi in un certo modo le cose che si sono ascoltate si sono viste sono inequivocabili anche se tu le hai tagliate un po' prima e un po' dopo quello che dici è inequivocabile ad esempio se voi dite oggi sono uscito per andare a fare una passeggiata ho trovato un bel sole splendente mentre voi tagliate e vedete solo io che dico sole splendente un bel sole splendente dice ma io voglio vedere il contesto però voi avete detto che c'è un bel sole splendente giusto è inequivocabile in qualunque contesto lo voi l'abbiate detto anche se io avessi detto preferisco la luna che bel sole splendente io ho sempre detto il bel sole splendente quindi da quello che hanno detto in questi video anche se gli anche questo mi rivolgo a giorgia meloni anche se le ma se ti mandano il filmato integrale o il filmato tagliato quello che è stato detto è inequivoca detto e anche i gesti che sono stati fatti gesti e parole sono inequivocabili pertanto io consiglierei a giorgia meloni non avrà certo bisogno dei miei consigli il mio consiglio però è questo oggi manda via dal partito tutte queste persone che hanno detto e hanno fatto dei gesti in questo in questi filmati mandali via amici non amici conoscenti persone che stimavi devi mantenere la tua credibilità sei alla guida del tuo partito il tuo partito ha sempre respinto con forza tutti gli accostamenti al ventennio del secolo scorso pertanto il mio consiglio personale è mandali via immediatamente tutti quelli che si sono visti in questi filmati dal partito perché i video anche se tagliati quello che si vede comunque inequivocabile quindi il mio consiglio è mandali via immediatamente grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata